Siamo andando a una città che io non conosco neanche tanto bene, però una città dove lavoro lì è un mercato, quindi andiamo a vedere com'è, poi vi spiego com'è, ok? Allora ciao, a dopo. Avete visto che traffico c'è? C'è una corda, peggio dì, le strade per andare a Milano diciamo, ok? Bye bye.